Allora, bentrovati amici, oggi siamo qua con un gioco un po' particolare, perché non è proprio... Delle palle? No, 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 è perché è un gioco molto strategico, molto tattico, come sapete noi non siamo proprio le persone più adatte, no? No, 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 Morelli no. E questo gioco praticamente è una battle royale, ma con degli elementi... A forma di membro? Esatto, possiamo partire. Questa è partita! Come funziona questa roba? Come si fa? Allora, dove dobbiamo andare? Mi chiediamo Morelli. Io mi vedo già giù. Beh, io zarfaitab. Cosa è successo? Andiamo a Wings. E vabbè. Chiacchio. Buttiamo? Andiamo a Wings. Aspetta. F, tu che... C'è il pilone laggiù. Sì, guarda, lo vedo. Dai, mi son buttato. Mi sono sparato lungo. Ma c'è un botto di gente qua. Arrivo, troviamo di son lottarlo, aspettate. Ma come si prendono le cose con F? Ah dai, però, perché sempre io... Vieni qua, schifoso. Sono fissato. Sono arrivato. Sono vivo. E spettiamo su. L'ho ucciso. Buon avviso. Eccolo, aspetta, è quello che... Grazie, sono su. Posso risuscitarlo. Come? Ma è un po' fare. Ah, perché è moro, questo? No, non è moro. Ma come? Ma mi dice teammate. Una bicicletta. La voglio io. Come una bicicletta? Sono il pirata. Ti lo può usare? Ti sa, i pirati andavano in bici. Morelli. Non hai visto H.I. No? Ah, giusto. Aokishi. Morelli, non hai vestito. Ma l'hai vestito. Deficente. L'hai vestito. Si vuoi vestire con la bici. Ma coglione, perché mi hai vestito? Come? Non pensavo funzionasse. Come siete un grunghi. Ci sono. Eccomi, sono. Ci sono in questa bici. Perché è nel cestino? Corri, Gli Ezzaro. Non farle penne. Non farle penne, non farle. Oh, non stai attento. Vieni alla destra, alla destra, vai qui. Che cacchio, allora. Ok, vai. Non vedo Marco, di questo postale. Un'altra bici. Un'altra bici. Un'altra bici. Aia. Aia. Facciamo il tarlo. Ma prendo la moto qua anche. Oh, addirittura. Sono in bici, eccomi. Non c'è niente in casa, però. Mi prendo la mia bici. Aia, Gli Ezzaro, che dolore. Aia, aia, aia. Gli Ezzaro, che male. Quasi tutto storico. Seguiamo Moro. Da, un'altra bici. Andiamo, andiamo a moro. Ma c'è gente qui. Si sparano. Gli Ezzaro. Si sparano qua da me. Come siete amici? Ti penso io, amici. Vado con la bici. Non so per terra dalla bici. Sai che imbarazzo. Aia. Sono imboccato, sono imboccato io. Gli ho messo in sotto con la bici. Bravissimo. Quello lì c'ho lo scudo. Ho finito i colpi. Sono morto. Ho suttato. Mi state, per favore, mi tirate su, amici. No, non mi resta. Dove investire questo qui. Esprit, esprit, tirami su, esprit. Sparagli, sparagli. Arrivo, io ne l'accetta. Dovete correre, sto per morire. E niente. Esprit, vieni qua. Vai, col cannone. E niente, sono morto io. Lanciatevi verso l'alto. Sì, mi sono lanciato. Ma che non funziona verso l'alto? Non ce l'ho pensato. Andiamo giù, andiamo giù in picchiello. Non è vero, non è vero. Sono caduto in un posto dove non devo cadere. E' una casa qui, ma sono da fuori. No, no. No, prima c'è la roba. Questo è uno. Ma c'è uno, c'è un sacco su un veicolo. Che cacchio. Sparalo, dai. Ok, lo vedo. Ma scusa, ma non l'ho investito. Vieni che sparo. L'ho ucciso uno. Niente, sono a terra io. Amici, ne ho uccisi due. E' fortissimo sto pollo, Iezar. Ma perché è l'arma migliore. No, non ha più colpi, non ha più colpi, vai. Ok. Ti ho messo, ti ho messo, Iezar, ti ho messo. Arrivo, arrivo. Ne ho uccisi tre. Vediamo, sì, io ho colpi dell'alto. Ne ho uccisi tre. Ma c'è un altro qua, spettacolo. Con un ascia. Avevano le armi loro, io non avevo niente. E due ce ne sono qua. E niente. Come? Ma questo mi sta picchiando a pugni, mi sta facendo malissimo. No, sono troppi qua. Il mondo non funziona. Guarda che punchbowl moda. Guarda che punchbowl moda. Stai ballando, stai ballando con lui. Eh sì. Allora, dove andiamo? Andiamo a Arbor. Andiamo per Arbor. Guarda per l'Arbor. Lì. Adesso, adesso, dai. No, ma non arriviamo neanche a metà. Big work. Eh, big work. Ci sono arrivato, ci sono arrivato, amici. Sto arrivando anch'io. Che cazzo. Sono arrivato. Poro, ti vengo a salvare. Dove sei? Ma che salvare? No, è lontanissimo. Ho lanciato. Ho uno di vita. Se riesce a scappare, io ho trovato un veicolo. Ma c'è gente in mezzo alla strada? Investile. Vi veniamo incontro, avete bisogno. Ho investito uno. Arrivo. Poro, ma sei sotto. Ho un cappello. Ah, vedi, un medikit. Ottimo, ottimo. Sto guidando il cappottato, ma cosa sta succedendo? No, dai, mi si è incastrata la bici, mi si è incastrata. Marco, gente. Spanganello. A sud ovest. Dov'è? Vi vedo, eh. Cosa si uccide? Va a sinistra, va a sinistra. In fondo erano. Via le case, li vedi? Sì. Si muovono. Ah, c'è gente qui qua. Arrivo, Lielder, aspetta. Mi sperano. Sto coprendo, gli ho sparato di tutto. Giro là dietro, Marco. Arriviamo. Arriviamo, amici. Eh, mi stanno per uccidere. Sono qua, Lielder. Perché io ce l'ho solo lanciarazzi, non è che posso fare more. Sani qua, Lielder. Eh, no, vieni, siamo circondati. Gli ho sparato, gli ho colpito. Ah no, c'è il rumore quando li colpisci, eh. Marco, Marco, c'è uno qua dietro la macchina. Mi sta per uccidere. Ho colpito. Tirate sugli... L'ho ucciso. Ok, tirate su me. Ah, quello dietro la casa. L'abbiamo ucciso, tutti e due. L'ho ucciso. Io non c'ho cure. Eh, anch'io c'ho morto. Ma sta arrivando la safe, sono morto. Venite nella bici, correte. Venite, venite, andiamo qua, tipo a caso. La safe è bellissima, la safe è inquietantissima. Dai, dai, muovetevi però, che siamo fuori dalla safe. Ci schiacciano. Eh, sto arrivando, ma non posso arrivare. Laggiù si sparano, sbombardano. Eh, sto correndo, però... Ma infatti. Non ho capito come funziona sto gioco. Non serve a niente di stare nella safe. Eh, non c'è, non... Ti ammazzo, l'uco. Non ti rimani fuori, credo. Ah, perché dici si chiude? Secondo me si chiude, sì. Ah, perché questo non si è chiuso, quindi... Guarda questi palazzoni che volano, quelli che arrivano dal centro. È la safe. Vediamo ancora tantissimo, vediamo ancora. È vero, siamo quasi nella safe. Eh, ma guarda la percentuale. Solo per cento, un po' più. Ah, Ring Pro che è sottato. Eh, si stanno alzando. Si stanno chiudendo. Corriamo. Libio. Cazzo. Libio, si chiudono. No, no. Correte dritti. Correte dritti. Via dritti. Si stanno alzando. Si spessiscono. Però siamo nella safe. Ma bellissima sta cosa, scusate. Corriamo. C'è una casa, vogliamo andare lì? Eh, sì, vado là io. Mi sparano. Mi colpiscono, per sbaglio, muoio. È arrivata l'altra safe. È arrivata l'altra safe. In casa, in casa. Non c'è niente. Eh, sparano, non lo visti dentro la casa. Correte. C'hanno gli occhini. Vedo il laserone, vedo. Eh, c'hanno i pistoloni, c'hanno. Sono delle case anche a destra. No, stanno chiedendo dalla zona. Ci stanno raggiungendo i pistoloni. Eh, ci ciupano i pistoloni, guarda. E' inquietante, però sta cosa. Mamma mia, la vera dei mondi. Marco, ce la facciamo salire montagne, eh? Meno ti faccio... Mora, mora. Non credo proprio, non si poteva salire i punti. Ho sbattuto la faccia su un albero, ho sbattuto il... La chioma degli alberi, non toccatela mai, per carità. Andiamo a piedi da qua, dai. Ma che piedi, Marco? Una mountain bike questa. Siete dentro? Vedi, Marco? Ti sta chiedendo dietro di voi, si sta chiedendo. Vedi, Marco? Si saliva, vedi? Siamo in sei, eh? Tra colto tre. Eccoli, sono qua sotto, dietro la rocciona, qua sotto. Sto arrivando. Eccoli, vedo. Spara un attimo. Mi sento dentro al safe, non è fatto? Vai, vai, vai. Dove corro, non sti maledetti? Non lo sape si chiude, ora. Mi hanno messo sotto. Non mi hanno preso. No, sono caduto giù. Non riesco a rupirlo, non riesco. Entro, non riesco a rupirlo, è impossibile. No, ma quel che cazzo di visualizzare? Sto colpito, ucciso. Morti, ne è rimasto uno. Ah, si sta strizzando. Vedi, si strizza. Mi spinge. Corro. Ma sono morto. Ma no, ti ho messo sotto, Jager. Aspetta, come ti tiro su? Jager. Ho tutto su. Ok. Ok, venite, correte. Ma io non ho armi, lo lasciate giù. Andiamo a prenderlo. Eh, dategli proprio in faccia, cioè. Eh, lo so. Ma l'ho messo a capire. L'ho compito non so quante volte, non si fatto niente. L'ho ucciso. Quattro kill ho fatto, primi. Abbiamo vinto. Sì, abbiamo vinto. Sei ancora contro l'albero. Molto bene. Vikotori. Perché Vikotori? Vikotori. Vikotori. Mi sono divertito un sacco. È veramente bella. È veramente bella sta cosa. Vikotori. 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 Vikotori.